L'appuntamento di Forza Italia, un po' anche in vista delle europee, come la vede? Insomma, questo è un appuntamento che fa parte di un percorso di coinvolgimento di tutte le nostre forze, di tutti i nostri simpatizzanti, i nostri tesserati, tutte le persone che vogliono bene a Forza Italia. La parte dei signori sia una parte rilevante del nostro movimento. Il Presidente Berlusconi ha sempre dato grande attenzione alla terza età, ha sempre dato grande valore all'esperienza, al valore della memoria delle persone in età più avanzate. Quindi, in un'epoca in cui ci stiamo preparando a degli appuntamenti elettorali importanti, dobbiamo coinvolgere tutte le persone che sono protagoniste della società civile e quindi anche i nostri signori. Oggi c'è il PD che va in piazza contro anche la manovra. Oggi il PD va in piazza contro la manovra. Io il commento che mi sento di fare è che questa piazza è una piazza a cui l'opposizione pensa già da tanto tempo. Addirittura il sindacato aveva dichiarato di andare in piazza prima ancora che la manovra fosse descritta. Quindi ho come la sensazione che ci sia tanta voglia, tanto desiderio di opporsi senza neanche preoccuparsi di capire opporsi a che cosa.